Facciamo il bassamo per capelli della nonna, al naturale, semplice, usando il lino. In un pentolino versiamo un bicchiere di acqua, mezzo cucchiaio di semi di lino, mescoliamo ed accendiamo il fornello. Lasciamo cuocere a fuoco alto e lasciamo bollire per circa 4 minuti. Esattamente fino a quando il liquido diventa gelatinoso. Spegniamo il fuoco e travasiamo, possibilmente in un contenitore di vetro o ceramica. Ed ecco fatto, il nostro balsamo allino è pronto, da usare direttamente sui capelli dopo aver fatto lo shampoo. Il risultato? Eccolo! Capelli sani, voluminosi e lucenti.